Ciao popolo bruciacchiato, qui è Gilles di Corner Sandoriano, ragazzi, benvenuti! Noi siamo ancora vivi, non siamo morti, noi siamo in ferie, semplicemente in questo periodo abbiamo fatto pochi video perché c'era poco e niente da dire. Ci sono ancora dotto fermo, calciomercato tutto glamorosamente fermo, però ne approfittiamo per parlare un po'. Allora ragazzi, dividiamo tutto per parti, facciamo le cose fatte bene. Direi che si può passare alle cose serie. Partiamo, logicamente, dai portieri. Audero, Audero probabilmente rimane perché non è mai stato in discussione il suo posto da titolare. Lo è stato per qualche periodo, probabilmente per spronarlo e si vede che poi è cambiato. Perché da quando Falcone ha fatto quelle partite da titolare, poi Audero è tornato più reinvigorito. Si vede che, non lo so, magari aveva qualcosa suo, qualche problema a casa, non lo so. Non lo so, spero niente di che. Comunque grande Audero perché sappiamo tutti che è l'uomo della provvidenza, l'uomo della salvezza quest'anno. Quindi speriamo che rimanga. Falcone, Falcone mi dispiacerebbe molto se partisse, però mi dispiacerebbe da giocare poco, sinceramente. Se dovessi vendere uno dei due, è brutto da dire, ma vendrei Audero perché ha un prezzo del cartellino completamente diverso. C'è Monza che è molto interessato a Falcone ed è pronto a proporre 5 milioni a quanto pare. Poi che la cosa sia vera o meno non lo so, lo scopriremo soltanto. Però, insomma, se partisse mi dispiacerebbe, però lo capirei anche. Se partisse Falcone, allora Ravaglia, che è il nostro terzo portiere, lo metterai come secondo, anche perché si è visto molto bene con la Fiorentina, con il poco che ha giocato ha fatto bene. Spesso ne hanno parlato bene, anche nelle interviste. Quindi metterei Ravaglia come secondo e metterei come terzo portiere qualcuno dalla primavera. Perché comunque, sinceramente, non andrei a spendere soldi per un terzo portiere che magari ritigia una partita in tre anni, come appunto ha fatto Ravaglia. Però, appunto, se, logicamente, ricordiamoci che un certo bufone è nato come terzo portiere. Quindi, ragazzi, va benissimo. E adesso parliamo dei difensori. Logicamente, dopo i portieri ci sono loro. Come centrali, beh, quasi sicura la partenza di Yoshida, che si svincolerà dalla Samp, il contratto va in scadenza e non c'è stato, insomma, le parti non si sono trovate. Quindi Yoshida non sarà più calcettore della Samp. Mi spiace per Maia, però comunque pensandoci l'abbiamo preso praticamente gratis e ha fatto un gran lavoro comunque in questi anni. Collei è un bel punto di domanda, perché Collei ha tanto mercato, il valore è buono, quindi ci si può far su una bella vendita. Con i soldi che deriveranno dall'accessione di Collei, urge un difensore d'esperienza e si sta lavorando tantissimo per l'arrivo di Gabbia. Gabbia è un giocatore del Milan molto talentuoso, perché non lo conoscesse, è giovanissimo, 19-20 anni, 21, o del genere. Io personalmente ci sono moralmente affezionatissimo, perché negli ultimi anni ogni volta che iniziava una carriera a FIFA, lo prendevo subito, sempre, perché dalla prima volta che l'ho scoperto poi è diventato un fenomeno, allora poi per me è diventato irrinunciabile. Sicuramente poi però servirà anche, come dicevo, un difensore più esperto. A me sarebbe piaciuto tantissimo Romagnoli, perché arrivando a zero, cioè a parametro zero, però sarebbe stato quasi impossibile per l'inganto, infatti probabilmente andrà da Lazio. Le alternative ce ne sono, mi viene da pensare a Mustafi, ok che tante volte le minestre riscaldate non sono l'alternativa migliore, però, però, sono validissime come alternative. Terzini, terzini ragazzi, c'è obiettivamente poco da dire, perché l'unico che potrebbe essere ceduto è Murru, che comunque già anche negli ultimi anni è stato al Torino, per poi ritornare da noi, però anche lì non lo so, non lo so perché, voglio dire, non penso che tante squadre abbiano un'urgenza di un giocatore con le qualità di Murru, che per la realtà non è un bidone, ma non è neanche un fenomeno, ma quasi tutte le squadre hanno già un giocatore che copre quel ruolo a Sam, sulle fasce a Berezinski e a Ugello, che sono intoccabili secondo me, quindi l'unico ecco sacrificabile da quel punto di vista, su quella fascia vedo Murru. Qualora venisse ceduto, promuovere qualcuno dalla primavera, tutto qua. Ho poco da dire sui terzini, spero vivamente che rimangano, soprattutto a Ugello. Berezinski, lo potrei capire, se ci facessero una buona offerta. Benissimo ragazzi, adesso parliamo del centrocampo. Andreva sembra essere il predestinato a lasciare la squadra, perché uno è probabilmente il giocatore che guadagna di più di tutta la squadra, e la società ha bisogno di abbassare gli stipendi. Per quanto sia incredibilmente forte, abbia fatto un'annata pazzesca, diciamo che con Gianpaolo ha reso molto meno che con D'Aversa, probabilmente è quello che avrei sentito di più, il cambio allenatore. Non so come mai, però vabbè, comunque rimane un grandissimo giocatore secondo me che Andreva per la santa. D'Amsgard e Sabiri sembrano essere le due stelle, diciamo, del gioco di Gianpaolo. Sulle fasce, veloci, che sono saltare l'uomo, molto propositivi, anche in attacco, è quello che la Sampa ha bisogno. Quindi io, Sabiri e D'Amsgard, li terrei assolutamente come protagonisti. In settimana ci saranno incontri per i rinnovi dei contratti di Rincon e Degdal, c'è ottimismo per tutti e due, su Degdal c'era qualche dubbio, però vedremo, vedremo cosa succederà. Pare certa anche la permanenza di Rolando Viera, che ha poco mercato, piace a Gianpaolo, però ha poco mercato, io non capisco come mai, ma è proprio un giocatore così straordinario. Chi non lo vorrebbe in squadra, uno così che ti gioca due partiti a stagione e lo gioca proprio male. Torsby anche, in forse, perché è uscito a voce del Manchester City, perché è stato così a Dunland, ma non lo sapete, sono molto... ho molti dubbi al riguardo, però si sa che Torsby è cercato fortemente a diverse squadre, anche in Italia. Potrebbero avere però una bella promozione, diciamo, in prima squadra, gli Epes, Trimboli, sono giocatori giovani che hanno già qualche minuto nelle gambe e però appunto potrebbero migliorare ancora di più. In entrata sono usciti diversi nomi, c'è chi d'ha già fatto Sarchi dello Spe... scusate, dell'Ascoli, che potrebbe seguire le dembe di Sabiri, diventasse forte così e manderebbe benissimo. C'è poi anche la questione Linetti, che in uscita dal Torino lo vuole con lo Spezia, ma Linetti preferirebbe la Samp. Ci farebbe comodo uno come Linetti, ma aspettiamo, cioè nel senso se proprio non possiamo farne a meno, allora va benissimo. Però, ecco, da uno che deve essere il capitano a una colonna portante ad aver perduto il contratto perché non gli omiti lo stipendio, se vedo un capitano come Quagliarella e poi vedo Linetti sinceramente vedo un omiso. C'è anche uscita la voce di un inserimento della Samp alla corsa per Torreira, però serviranno a meno 15-20 milioni e mi fa un po' ridere la cosa. C'è poi la voce anche di Esposito, non l'attaccante dell'Inter, ma il fratello che è centrocampista in forza alla spalla. Interessante, giovane su quale si potrebbe puntare parecchio. E adesso però ragazzi passiamo alla parte più importante della squadra, l'attacco, quello dove c'è sempre più il mercato. Caputo potrebbe andare alla Lazio che ci ha provato, la Samp ha detto di una prima volta e allora ha rialzato l'offerta. Per il resto dipende molto anche dalla situazione Bonazzoli che vorrebbe rimanere alla Salernitana, la Samp può indecise se tenerlo o meno anche perché poi c'è da dare un buon 20% all'Inter su cui hanno già fatto un buon investimento su Bonazzoli. Quagliarella sicuramente rimane, Gambia di Nian non vedo perché dovremmo vendere un secondo modo di giocatore migliore della Rosa, però mai dire mai ma io spero vivamente di no. Si è parlato molto in queste settimane di De Frel io l'ho già detto tante tantissime volte e lo continuerò a dire no, no, per favore De Frel no. Il giocatore comunque ormai che va verso una certa età a me personalmente non piace con la Maglia d'Assamp l'ho visto sbagliare l'impossibile quindi non lo prenderei. A me il terrestre sarebbe molto tirare su qualcuno dalla primavera. Vedremo, vedremo cosa succederà se ci saranno grandi colpi di mercato o anche piccoli colpi di mercato non vi terremo aggiornati fino a ora ripeto siamo stati un po' assenti perché solo voci ma niente di serio però occhio perché la Samp qualche colpo sorpresa l'ha sempre gazzato quindi speriamo bene. Iscrivetevi al canale YouTube e come sempre ciao popolo bricecchiato qui è un po' assenti